Grazie, Presidente. Siamo alle dichiarazioni di voto finale della legge di stabilità e di bilancio, dopo una a due giorni fatta da tre fiducia consecutive, così per continuare a dimostrare in maniera plastica quanto sia alta la democraticità di questo Governo. Una valutazione certamente negativa del provvedimento, che certifica ad ampi scorci le reali intenzioni di Renzi verso il mondo dell'autonomia e dei territori. Una finanziaria che scrive nero su bianco quella che io considero una delle peggiori pagine del centralismo nazionale, dello statalismo più oscuro, che purtroppo avanza sempre più da quando lega Nordone al Governo del Paese. Una previsione di bilancio intrise di vessazioni politiche, economiche e istituzionali contro le autonomie, contro le comunità locali e le regioni, soprattutto quelle del Nord, quelle virtuose della Padania, che qui noi vogliamo rappresentare. È palpabile come, provvedimento dopo provvedimento, il pendolo della storia ora viri sempre di più verso Roma e non verso le periferie, verso il neocentralismo voluto dal Partito Democratico e dal suo massimo rappresentante, frutto della sottomissione del Governo alle politiche macroeconomiche europee, figlie di un'Europa senza anima che ha partorito il fiscal compact, la rigidità di bilancio, l'austerità come fine, un'Europa nata senza una costruzione democratica, da cui Renzi ha ben attinto le modalità pragmatiche per la sua ascesa al potere. Una finanziaria che nasce sulle ceneri di previsioni macroeconomiche completamente sbagliate da parte del Governo, fatte a inizio dell'anno, su cui sono intervenute le indicazioni e le raccomandazioni della Commissione europea, stime errate su inflazione, disoccupazione, crescita e di conseguenza sulle finanze pubbliche. Avete accettato la previsione del 2,6% di rapporto deficit-pill, che ha portato ad un ulteriore ingessamento della spesa pubblica per ulteriori 4,5 miliardi di euro, andando ad eliminare il fondo per la deduzione della pressione fiscale, che era 3,3 miliardi, e ciò significa quindi una tassazione maggiore di tal importo, e l'aumento della platea dell'inversione contabile dell'IVA, coperta in caso di infrazione comunitaria, con la solita clausola di salvaguardia dell'aumento delle accise sulla benzina, tabacchi e quant'altro. Sentiremo elogiare, l'abbiamo già in parte sentito, dalla maggioranza questa manovra, l'hanno già anche fatto ieri i colleghi del PD in discussione generale, per la stabilizzazione degli 80 euro in favore dei lavoratori dipendenti, per la deduzione del costo del lavoro dall'IRA per l'assunzione a tempo indeterminato, per la buona scuola, che tra l'altro spende 3 miliardi a decorrere dall'anno 2016 per stabilizzare 150 mila insegnanti in un periodo storico in cui tutto si dovrebbe fare, tranne che aumentare la spesa pubblica, tranne che aumentare il comparto dei dipendenti pubblici. Ma noi non senteremo sicuramente, non ci diranno mai, che tutte queste iniziative, vicine alcune alla inutilità, se considerate in riferimento all'incremento dei consumi e del prodotto interno che genereranno, saranno pagate da politiche economiche scelerate, fatte di tagli agli enti locali, alle regioni, di aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta, di aumento del debito pubblico, di recupero fiscale alle imprese in tema di IRAP. Perché se questo provvedimento da una parte il Governo introduce la deducibilità per chi assume, e saranno solo poche grandi aziende, le grandi imprese che possono assumere, ma per tutte le altre imprese, soprattutto per quelle piccole e medie che costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale, soprattutto per tutte quelle imprese del Nord si cancella la riduzione della stessa aliquota IRAP prevista con il Decreto 66 di inizio anno, con una pretesa retroattiva alla faccia dello Statuto del Contribuente. Un po' di dati li voglio dare per riassumere questa finanziaria. 14 miliardi di tagli agli enti locali nel 2015, 4 alle regioni, 1 alle province, 1,2 ai comuni, ai cui si devono aggiungere i tagli previsti dal Decreto 66 di Renzi per 2 miliardi e dal Decreto 95 di Monti per altri 6 miliardi. Di più queste cifre aumenteranno, per la quota appunto della finanziaria, nel 2016 per 7,2 miliardi e 8,2 miliardi nel 2017. E non diteci che l'allentamento del patto di stabilità per i comuni sia un'iniziativa credibile. Tanto toglierete di trasferimento in spesa corrente i trasferimenti correnti e tanto concedete di maggiore spesa agli enti locali. Questo cosa significherà? Significherà inevitabilmente che i tesoretti che i sindaci hanno nei loro conti per riuscire a dare un impulso all'economia locale verranno inevitabilmente spesi per la spesa corrente, per dare i servizi che non riescono più ad allargire per i tagli che voi fate loro e pertanto il volano della spesa in conto capitale di investimenti propedeutica a far da volano all'economia non ci sarà. Mentre lo Stato riduce in tutto questo cataclisma per gli enti locali la propria spesa ministeriale per soli 2 miliardi di euro, obbligando le Regioni, tra l'altro, all'applicazione del pareggio di bilancio già dal 2015, mentre lo Stato se lo porta al 2017. Quindi è proprio vero che si chiedono regole agli altri, ma lo Stato le regole che chiede agli altri di certo per se stesso non le vuole mantenere. Tutto è finalizzato alla distruzione del tessuto sociale territoriale per riuscire a ingigantire ciò che non può più essere gigante che è lo Stato centrale. Un tessuto sociale quindi territoriale martorizzato. Volete concretizzare di fatto un omicidio perfetto da parte dello Stato centrale? Nei confronti delle autonomie locali che dovranno così aumentare la loro pressione fiscale se vorranno sopravvivere. Renzi ride sempre in televisione, però ci sono i sindaci e i cittadini che purtroppo dovranno piangere dopo questa finanziaria. Di più, e sempre a danno delle autonomie, prorogate la tesoreria unica per i comuni e assoggettate alla stessa anche le Camere di commercio, tra l'altro svuotate di competenze perché le centralizzate al Mise, con la conseguenza di minori investimenti per lo sviluppo dell'imprenditoria locale. Colpite le casseforti dei risparmi dei cittadini, le fondazioni bancarie che sempre più in questi ultimi anni si sostituiscono agli enti locali per il sostegno alle politiche sociali, culturali e sportive. Di fatto aumentate la tassazione sugli utili ricevuti, portando l'aliquota al 27,5% di un imponibile che passa dal 5 al 77,74% delle somme ricevute dagli enti no profit. Un salasso ridicolo che sarà però tutto a danno del mondo associativo, che vedrà minori trasferimenti da parte delle fondazioni stesse. Per non parlare poi delle clausole di salvaguardia che prevedono per il 2016 l'aumento dell'IVA, sia agevolata che ordinaria, dal 10 al 12% e dal 22 al 24%, per arrivare a regime al 13 al 25,5%, un quarto dell'imponibile andrà in imposta sul valore aggiunto. Questa è la via migliore per aumentare l'evasione fiscale ed ammazzare la domanda interna. Una presa in giro di finto e peloso buonismo è quella della proposta del TFR in busta paga, un danno secco a chi vi eccederà. I lavoratori si vedranno aumentare la tassazione degli importi, in quanto questi verranno soggettati all'aliquota marginale. Tali somme faranno cumulo ai fini ISEE, con le conseguenze di venire esclusi dai benefici previsti da determinate leggi, e in più vengono aumentate le aliquote a danno dei lavoratori, con il passaggio dall'11,5% al 20% per la tassazione dei fondi pensione, ed anche vengono aumentate le aliquote per le rivalutazioni del TFR, quindi a danno delle imprese medesime. La macarvara ciliegina sulla torta, a cui neanche Visco o il Presidente Amato riuscirono ad arrivare, è la tassazione sui proventi assicurativi in caso di morte. Renzi, che ride, si è inventato pure una tassa sulla morte. Ed ovviamente, viste le griglie economiche adottate per tutte le agevolazioni previste in finanziaria, siamo facili profeti a dire che questa andranno a beneficiare soprattutto gli stranieri, caro Buttiglione, altro che famiglie numerose italiane, e per alcuni casi, come il Fondo per le famiglie numerose, esclusivamente solo e esclusivamente per gli immigrati, a cui tengono molto il PD e l'NCD, tanto è anche Buttiglione, tanto che hanno speso miliardi per andare a prenderli in Africa. Quindi voglio dire che ci sono anche altre numerose spese prezzemolo, quelle a cui questo Parlamento non riesce mai a dire di no, 110 milioni all'anno per Roma Capitale, 100 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, la cui utilità è finalizzata squisitamente per chi prenderà l'indennità, non certo per lo Stato, 80 milioni per i buchi di bilancio sanitario del Molise, 190 milioni per il Fondo Immigrati, mentre per il Fondo Liovenati trovate una ridicola somma di 60 milioni. Solo il territorio da cui provengo io, Presidente, un secondo e finisco, ce ne serviranno almeno 20. È una vergogna. Avete cancellato i costi standard, i fabbisogni standard, avete cancellato il federalismo fiscale, discriminate sostanzialmente tutti i territori. Per sintetizzare, questa è una finanziaria che umilia i territori, che umilia le virtuosità e premia gli sprechi. Una finanziaria che ha più spese, più entrate, meno investimenti e più deficit. Proprio per tutti questi motivi la Lega Nord voterà convintamente contro a questo progetto di legge.